Dicevamo Lucio Dalla, prego maestro, questa è bella, vai! Questa è l'omaggio più grande che si può fare ad un poeta Santi che pagano al mio pranzo non ce n'è blu sulle panchine piazza grana ma quando ho fame di briganti come me qui non ce n'è Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me innamorati in piazza grana dei loro guai, dei loro amori tutto so sbagliati o no a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io a modo mio avrei bisogno di pregare Dio una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grana a chi mi prende prendo amore, amore d'oro quanto ne ho e se non ci sarà più gente come me voglio morire in piazza grana dai gratti che non ha un padrone come me attorno a me a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io avrei bisogno di pregare ma la mia vita non la cambierò mai mai a modo mio quel che sono l'ho voluto Dio Dice che era un bell'uomo e veniva dice veniva dal mare parlava un'altra lingua e non sapeva mai e quel giorno lui presa mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima di essere ammazzato così lei restò sola nella stanza la stanza sul porto con l'unico vestito ogni giorno più forte e benché non sapesse il suo nome e neppure il paese ma di ricciolo l'aspettò come un dono d'amore fino dal primo me e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamo mi chiamo Gesù bambino e ancora adesso che gioco a carte faccio l'amore ogni tanto e bevo vino per la gente del porto mi chiamo caro amico ti scrivo e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è una grossa novità rossa propria l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va si esce poco la sera lo dica anche lei compreso quando è festa ma con chi parla? e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per interi settimane e quelli che hanno niente da dire del tempo nei rimani ma la televisione è vero ci ha detto che quest'anno che è arrivato adesso questo, questo porterà una trasformazione e tutti quanti stanno già aspettando sarà tre volte Natale festa tutto il giorno ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno e si farà l'amore l'ora ognuno come gli va maschi e maschi, femmine e femmine tutti mischiati, vanti anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi Mario Monti se ne andrà e magari saranno forse i troppo furbi o i cretini di ogni età vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico e come sono contento di essere qui in questo momento vedi, 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 vedi vedi caro amico cosa si deve inventare per poter riderti solo per continuare a sperare e se quest'anno poi passasse in un istante vedi amico mio come diventa importante ciao Torcini e in quest'istante ci sia anch'io l'anno che è arrivato tra un anno passerà io mi sto preparando è questa la novità sei pronto? sei pronto? sono le mie amici per tutti voi grazie bella la fine nostra Grazie.